Ciao, benvenuto. Ciao, grazie. Come ti chiami? Mi chiamo Lorenzo, ho 18 anni e vengo da Terni. Come ti sei avvicinato alla musica? Mi sono avvicinato alla chitarra maggiormente per fare una serenata. E com'è andata? Male. Giustamente. Non l'ho più fatta alla fine. Però comunque la passione per la chitarra è continuata. E per le ragazze? Anche. Quindi sei fidanzato al momento? Sì. E come l'hai conquistata? Eh, con il canto. Ok, quindi a volte le serenate funzionano, lo abbiamo come promemoria. Cosa ci fai ascoltare questa sera? Un brano di Oscar Isaac, si intitola Neverhead. Ottimo, e noi siamo tutti orecchi. In bocca al lupo. Via al lupo, grazie. 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 Sai, tenere questa calma e catturare l'attenzione semplicemente facendo quello che fai che è già un ottimo punto di partenza, no? E si può solo andare a migliorare, quindi mi sei piaciuto molto. Grazie mille. Come si suol dire, non era la mia tazza di tisana idratante, ma me l'hai fatta piacere lo stesso. Grazie mille. Grande. Votiamo. Votiamo. Lorenzo, io in te vedo, non lo so, qualcosa di speciale, quindi per me sì. Grazie mille. Per me sì. Grazie, grazie. Anche per me sì. Grazie. Ed è sì anche per me. Quattro sì! Ci vediamo a Milano, Lorenzo. Grande. Ciao, sono Alessandro, iscrivetevi al canale YouTube. Non so più come dirvelo.